tasca pane porta maschera antigas croato guerra indipendenza 1991 92 questo porta maschera antigas è stato realizzato con delle fettucce in metallo in cordura e degli attacchi metallici con moschettoni metallici probabilmente prodotto interamente in croazia ha lo sgancio a tre bottoni automatici poi al suo interno è molto complesso poiché troviamo una serie di tasche sempre dedicate ovviamente alla maschera antigas per contenere questa di ritenzione per la maschera antigas vera e propria con bottone automatico un'altra taschina piccola qua sul lato e un'altra ancora in fondo qua un'altra piccola taschina sempre di contenimento con una fettuccia ovviamente queste servivano per la maschera antigas queste fibbie che vedete servono per indossarlo in una maniera tale che rimanga sul fianco questa maniera questa va intorno la vita questa rimane sul fianco e militare può aprirla immediatamente ed estrarre la maschera avendo la portata di mano